Allora, amici di Tricarico, vi facciamo girare come sempre un attimo gli amici di pazienza che di un attimo di pazienza in piazza, foto di gruppo con dietro la basilica per la maschera di Tricarico che trasforma il corpo in un elemento simbolico che ci parla attraverso i segni e guarda caso il tema del Carnevale di Venezia 2023 è proprio quello dei segni. La maschera è un sistema di segni, simboli, indizi e sintomi costruiti sulla base della conoscenza dell'uomo, sintesi della cultura del tempo e che continua ancora oggi a trasmettere messaggi, un misto di esperienze intellettuali e tradizioni popolari. Le maschere protagoniste sono il toro e la mucca che insieme ad altre maschere figuranti umani creano un corteo governato da un massaro o da un vaccaro che si aggira per il centro storico alle strade del paese e che tra poco si aggirerà in mezzo a voi qui in piazza San Marco. La manifestazione è legata alla festività di Sant'Antonio Abate del 17 gennaio ed è promossa dalla Proloco di Tricarico. Con l'occasione quindi ringraziamo il presidente della Proloco Francesco Sant'Angelo e il presidente della rete dei Carnevali Rocco Stasi. Quindi adesso scendete in piazza e movi beccate la maschera di Tricarico, la Basilicata in piazza San Marco. ... ... io non sono abituato quanto vuoi a vedere tutte queste masche ma è sempre bellissima che per voi deve essere un'emozione unica assolutamente questa è un'emozione che si rinnova di volta in volta perché vedere questi colori ma vedere quello che ci sta dietro quello che ci sta dietro il lavoro di un po' storicità di questo lavoro quello che rappresentano per loro questi momenti è quello che portano